Brutti, schifosi e mettiamo paura! Siamo i piccoli mostri e ci infiliamo ovunque! Nei capelli, sulla pelle e nei vestiti! Crea scherzi ai tuoi amici, collezionali tutti e sfidala! Ebbene, tante idee e ricette semplici, veloci ed effetto! Pomodori per tutti i gusti, focaccia o quiche, fusilli o gnocchi! Napoli in tavola, calamarata piccante, alici fritte e torta caprese! Cucina estiva, insalatone di pasta e di riso! Con il tonno, conchiglioni al forno e peperoni... Dici sempre di non avere mai tempo, eppure... Eccoti lì, in piedi, alle 6 di mattina, anche se è il tuo giorno libero! Disposto a sopportare la fatica, il caldo e il freddo... Ma tu non hai alcun dubbio, lo rifarei altrimenti... Aspettando una efficace, semplice e non troppo costosa alternativa agli SDN? L'attesa è finita! Ti presento IPDTL di InQuality! IPDTL è una pagina web rivoluzionaria e facile da usare! Utilizza Chrome per trasmettere l'audio da e verso ogni luogo del mondo!